Scandalo a Uomini e Donne, Tina, Gianni e la nuova dama Tiziana. Sei pronto a tuffarti nel vortice del gossip di Uomini e Donne, il celebre programma televisivo che continua a tenere tutti con il fiato sospeso? Questa settimana si è rivelata particolarmente movimentata, con l'attenzione che si è concentrata su due personaggi chiave, Tina e Gianni. I due opinionisti sono finiti al centro di un acceso dibattito a causa del loro modo di interagire con la nuova arrivata, Tiziana. La puntata del 14 marzo ha scatenato un'ondata di reazioni negative da parte del pubblico, tanto che è sorta una richiesta unanime affinché Maria De Filippi intervenisse per porre fine alla situazione. Durante la trasmissione, Tina ha scherzato sul lavoro di Tiziana come donna delle pulizie, suscitando non poche polemiche. Mentre Gianni ha messo in discussione le reali intenzioni della dama nell'amore, scatenando ulteriori critiche. Le piattaforme social sono state invase da commenti indignati da parte dei telespettatori, i quali hanno stigmatizzato il comportamento degli opinionisti come vergognoso e offensivo. Tiziana, dal canto suo, ha tentato di spiegare le sue difficoltà ad aprirsi emotivamente, attribuendo il problema a un blocco personale. Ma ciò non è stato sufficiente a placare le critiche, con alcuni che l'hanno invece etichettata come esibizionista ed eccentrica. La tensione è salita alle stelle, con accuse di umiliazione rivolte a Tina e Gianni. E persino alcuni fan hanno suggerito la chiusura del programma nel caso in cui non si verifichi un cambiamento nel comportamento degli opinionisti. Le nuove regole di Mediaset impongono un approccio più moderato e rispettoso, pertanto diventa essenziale un adeguamento a questa linea. In conclusione, il mondo di uomini e donne continua a offrire emozionanti colpi di scena e dibattiti accesi, mantenendo alta l'attenzione del pubblico. Sarà affascinante seguire l'evoluzione della situazione e scoprire se ci saranno ulteriori sviluppi tra Tina, Gianni e la dama Tiziana. Non perdere neanche un dettaglio di questo avvincente capitolo del panorama televisivo resta con noi.